Vado! Vado! Aspetta, aspetta, aspetta! Ma dici, allora! Così? No, così! Così? No, così! Così? No, non metti niente dentro! Non metti niente dentro ti vede il fuoco! Non lo so, non lo so! Non lo so, non lo so! No, non lo so, non lo so! Ah, fa così ora! Vai! Oggi, spostati! Ponte! Non vado dentro! Ponte! Vado! Aspetta, aspetta, aspetta! Vai! Ponte! Oh, no, non vado dentro! Non vado dentro! Non vado dentro! Grazie.